Povera Antonella, oltre ad Edoardo Dona Maria che le lancia delle frecciatine, ora ci si mette anche l'amica dell'ex, Camilla Ghini, la figlia del noto attore Massimo Ghini. La ragazza è la collega di Edoardo Dona Maria, infatti due lavorano insieme a Radio Z. Ma cosa è mai successo? Durante la diretta Camilla ha preso in giro Edoardo dicendo che il ragazzo era tutto preso a mandare dei messaggi a chissà chi, facendo quindi pensare a tutti che il ragazzo avesse un nuovo amore e che quindi Camilla mandasse delle frecciatine a Antonella. Comunque tra Camilla e Antonella non c'è stata mai armonia, infatti Antonella dal suo canale Broadcast ha subito detto la sua, accusando Camilla Ghini di essere falsa e nemmeno eccellente nel suo lavoro. C'è gelosia tra queste due ragazze? E per Camilla sono state solo delle battutine? Oppure c'è qualcosa che ancora noi non sappiamo? C'è gelosia tra le persone! Sì, sì, sì.